Silvia Toffanin, una delle regine indiscusse del piccolo schermo. Malgrado il tempo passi, lei è rimasta una donna bellissima. Ma non è solo merito di madre natura, a quanto pare è ricorsa più volte alla chirurgia estetica, ecco quanto ha speso. Silvia Toffanin LettoQuotidiano.it per Silvia Toffanin sembra che il tempo non passi mai. Lei è una delle conduttrici più amate del panorama della televisione italiana, infatti, con il suo talento e con la sua incredibile bellezza ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Però, non tutti sanno che la moglie di Pier Silvio Berlusconi, è ricorda alla chirurgia estetica più di una volta e ha speso delle cifre davvero stellari. Volete sapere quanto ha sborsato? Non ci crederete mai, rimarrete a bocca aperta, scopriamo di più. Silvia Toffanin, il prima e il dopo, è cambiata tantissimo Silvia Toffanin, bellissima e talentuosissima, con poco riesce ad attirare l'attenzione dei suoi fan. Malgrado sia una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano, è una persona molto riservata. Senza dubbio, la sua discussa storia d'amore con Pier Silvio Berlusconi è sempre stata nel mirino dei gossip e non è stato facile per lei. Ma come tutti i personaggi famosi, è circondata dalla curiosità del pubblico che vuole saperne sempre di più sulla sua vita privata. Infatti, moltissimi telespettatori, si sono chiesti se la bellissima conduttrice di Verissimo sia mai ricorsa alla chirurgia estetica. Confrontando le foto del passato, sembrerebbe proprio di sì. Scopriamo quali gli interventi ha fatto e quanto ha speso, rimarrete senza parole appena saprete quanto ha sborsato. Silvia Toffani in letto quotidiano, it's Silvia Toffani in quanto ha speso dal chirurgo. La cifra è stellare come la maggior parte dei VIP. Anche Silvia Toffani sembra aver ceduto alla chirurgia estetica. All'età di 42 anni ha ancora un fisico scolpito e un viso perfetto, ma non è tutto merito di madre natura. Silvia Toffani in letto quotidiano.it Infatti, se mettiamo a confronto le foto del passato con quelle attuali, possiamo notare un difetto della sua dentatura che ha poi modificato. Ma quanto monterebbe il costo dell'intervento? Secondo una ricerca sul web, per rifarsi i denti, avrebbe speso circa 30.000 euro. Silvia Toffani in prima letto quotidiano.it Una cifra davvero stellare, ma precisiamo che questa notizia non è mai stata smentita e nemmeno confermata dalla diretta interessata. Come abbiamo detto sin dall'inizio, Silvia Toffani è una donna molto riservata proprio per questo, non ha dichiarato nulla a riguardo. Grazie a tutti.